Ma cosa cazzo fai? Io adesso te la chiamo io la polizia, tu le vai le poste e non me le puoi mettere? E le ripeniamo e riprende. Tu sai cosa ho detto io? Lo sai? Adesso te la chiamo io la polizia. Chiamo la polizia. Prima di vedere cosa è successo nei giorni di Rimini Comics, facciamo un passo indietro. Circa un anno fa, in collaborazione con Nerd House, realizzamo un servizio sui troffatori che si aggirano alle fiere del fumetto e del gaming. Persone che si spacciano per associazioni di beneficenza allo scopo di estorcere soldi ai passanti. Stanno regalando le terapie per i primi, a vedere i sancchi. Pugnendo dei piccoli fondi da parte di tutti i ragazzi, i ragazzi, mamma e papà, ho avuto un po' misto, salvia. Stiamo raccogliendo mille passi dall'albero, i ragazzi non ci conosciuti tutti senza mamma e papà. Ti chiedo anche a te, visto che la faccia da cattivo non ce l'hai, sei anche simpatico. Il primo giorno di Rimini mi stavo dirigendo verso la stazione centrale dei treni. Quando due persone mi hanno fermato e mi hanno riconosciuto, mi hanno detto ma sei te quello che fa il video? Io ho detto sì, sono io. Mi ero anche fermato pensando che fossero dei fan che mi avessero riconosciuto nei video su YouTube. Ma subito dopo mi hanno minacciato di smetterla di fare i video e di smetterla di rompere i coglioni. Allora ho continuato il mio passo verso la stazione. Ma questi due uomini ne hanno chiamati altri. Si sono fatti tipo un gruppetto di sei persone che mi continuavano a seguire, minacciandomi di fermarmi che dovevano parlare con me. Io gli ho detto non ho niente da dirvi, dovete smetterla di fare i truffatori. E loro si sono altamente arrabbiati, continuavano a seguirmi. A un certo punto mi avevano quasi accerchiato. Mi trovavo di fronte a un bar. Mi sono girato di scatto e gli ho detto guardate c'è la telecamera, è tutto ripreso, fatela finita. E lì si sono fermati. Si sono fermati e hanno iniziato a girarsi intorno e a guardare se c'era qualche telecamera. E per fortuna mi sono allontanato perché non so cosa volessero fare. Il giorno dopo mi trovavo seduto su una panchina insieme agli amici al CEDO, come al solito anche qualche fan che era lì con noi, tutti i testimoni. A un certo punto Pietro, il nostro amico, stava venendo verso di noi. Viene fermato da questi truffatori e gli chiedono come al solito di dare soldi in beneficenza in cambio di qualcosa. Noi per aiutarlo anche un po' a uscire e per fargli capire che erano dei truffatori mando Andrea con la telecamera spenta verso di loro. Loro si allontanano, noi si ritorna tutti alla panchina, io continuo a giocare a Pokémon. Subito dopo, sono passati dieci secondi, mi arriva incontro una ragazza, come potete vedere poi dal video, e mi strattona. Faccio un tempo a accendere la telecamera e parte il video che adesso seguirà. Ma cosa cazzo fai? A me fu mio caccio allora, vai. Io adesso te la chiamo alla polizia, perché tu le mani poste non me le puoi mettere e le ripeniamo e le riprende. Tu sai cosa ho detto io? Lo sai? Adesso te la chiamo io la polizia. Chiamo la polizia, chiamo la polizia. Ma lui è ripreso l'anno scorso, non ti permettere mai più. Io ti denuncio, lo sai che quello che tu hai sbagliato? Ah, perché voi è giusto. Ma tu sai cosa ho detto io? Io sono una mamma, io sono una mamma, io sono una mamma, io sono una mamma, io sono una mamma. Lo metto in mezzo nei bambini malati e non metto in mezzo niente di strano. E allora? Quindi vedi anche chi riprende, perché ti può andare male, Fire. Hai finito su YouTube? Chiamala la polizia, ha detto che la chiamano. Chiamala. Perché siete scappati quando è arrivata? Io mi sto girando una sigaretta solo perché noi non fatturiamo. Ma cosa ci senti? Ti fico a fuori possibili. Noi non rambiamo, noi ci senti che se io mi sto parlando la cattola è la rata. Se hai le palle chiama la polizia. Chiamala. 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 Io non ho problemi, io non metto in mezzo nei bambini malati. Come, come, come? Non metto nel mezzo i bambini malati? I bambini malati, non mettono i volontari del bambino, ma stanno regalandole le terapie per i bambini. Non ho problemi, perché non stai chiamando. No, perché l'unico mio problema. Sì, perché non voglio rotturidità, non voglio fermare, non voglio lavorare. Perché voglio lavorare. Non è lavoro, il lavoro è un altro, il lavoro si fa a cercare. Perché lavoro, non me ne fai un cazzo di questo discorso, non lo puoi fare. E allora, cosa cazzo pari? E allora, è reale, è reale. E tu invece che viaggi con le cose del campo, con le cose della gente, con la polvo, non lo puoi fare. Non puoi fare. Ma lui ci prende i soldi sui video. Tu prende i soldi. Perché sei il primo che vai a denunciare, se no vieni con me dietro un alberello. E vediamo cosa si fa fare da uomo a uomo. Bisciazza. Non è così che ne sono dissi. Bisciazza. Non è così che ne sono dissi. Vai, coglioni. Ma riprendi, riprendi. Noi li mettiamo in mezzo bambini. Noi li mettiamo in mezzo malati. Noi li mettiamo in mezzo noi stessi. Siamo delle mamme e chiediamo un'offerta. Ma qual'è il problema? Tu non ti puoi fare nemmeno a dire? Ma come è? Ma come sai? Ma che cazzo dici? Ma che cazzo dici? Ma tu sei quanto mi hai detto a una sola cosa? Ma che cazzo dici? 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 Ma vai all'università a fare qualcosa? La cazzo dici? Perché non la posso permettere? Non tiene. Eh, perché non si? Perché non si? Ma ci vai ogni anno a rompere i coglioni alla gente? ci vai a rompere i coglioni alla gente fai un pezzuta sono offerte continuate a guardare i video di sto coglione che prende ogni video 50 euro perché io sono un scemo pig money ragazzi pig money oggi lo offro tutto io ma se io ti riesco a vergognare perché questa è la privacy della gente tu non puoi prendere il piso della gente ma io faccio di censura mi censuro tutti scusi potete venire qua polizia polizia dopo aver strattonato Simone questi truffatori hanno deciso di andare oltre e ad un certo punto uno di loro mi invita ad andare dietro l'albero per risolvere la questione ora lucemente che cosa avrei potuto rispondergli se hai a dirmi qualcosa dimmela qui se vuoi andare dietro l'albero sappi che io ho dei gusti totalmente diversi ma soprattutto se vuoi discutere io non ho nulla da nascondere per cui se hai bisogno di andare dietro l'albero vuol dire che hai qualcosa da nascondere però non è tutto non è tutto perché io cittadino ovviamente mi affido all'organo deputato a difendermi a far valere i miei diritti vale a dire la polizia per questo motivo ci rivolgiamo alla polizia riminese chiedendogli appunto di allontanare questi truffatori che appunto ci stavano dando noia ma sorpresa cioè l'organo deputato a difendermi a far valere i miei diritti che cosa fa? dà quasi ragione a loro cioè si li porta via però dicendo appunto ragazzi non ti rompete le scatole basta no non capisco il perché tutto questo problema scusate rubano i soldi dai borselli e tutto quanto così è eh sì ma voi che mi inter... per favore la polizia ti risponde così e appunto se li portano via sfavati cioè senza aver voglia e uno di loro appunto di questi truffatori accompagnato a braccetto dalla polizia si gira guardandoci dicendoci non sconfiggerete mai il sistema dopo questo episodio qui ero appunto in fiera in borghese e dovevo andarmi a cambiare e dovevo vestirmi appunto da joker per fare ciò eh mi sono diretto verso l'hotel da... da solo e ho incontrato uno di questi truffatori ricordo il loro modus operandi è questo ti salutano ti mettono in mano un oggetto che sia una cartolina o una penna e con questo ti bloccano perché non riesci a restituirglielo e appunto che cosa ha fatto questo ragazzo mi ha messo in mano una penna e eh gli ho detto guarda c'ho da andare di corsa e tutto quanto è anche perché ero da solo e non mi volevo tanto tanto esporre mi ha messo in mano questa penna qui cercavo di restituirglia senza esito positivo ha continuato a parlare fino a che ad un certo punto non mi ha riconosciuto mi ha riconosciuto e appunto mi ha fatto tu sei quello che va a giro con quello ricciolo che ha fatto i video su di noi e ho detto sì e ho detto guarda e ho detto appunto arriviamo alle domande e ho detto tu mi hai parlato di un'associazione per i bambini che stanno male ho detto dimmi il nome dell'associazione fammi... fatti riconoscere come associazione io... io a te ti tronco perché te devi sapere che io sono napoletano io sono capace a far sparire i cadavere e appunto ho continuato a minacciarmi di morte a toccarmi a spinto nero e ho detto guarda non mi tocca e continuato a spinto guarda non mi tocca che poi dopo alla fin fine ti faccio denuncia faccio venire qui io ti sgozzo tutte minacce di morte appunto fatte da questa associazione benevola che poi associazione non è mai a cattonaggio questi bisognosi che ti minacciano di morte quindi ragazzi io lo ripetisco attenzione attenzione questi sono la feccia delle fiere mi raccomando di una cosa possono essere capaci di fare del male quindi non vi esponete da soli non vi esponete quanto prima chiamate la polizia, carabinieri, qualcuno molto meglio sarebbe se le fiere dessero a disposizione delle persone un numero da chiamare di pronto intervento dove appunto le forze che sono impiegate all'interno della fiera possono intervenire quanto prima sia per questo che per tutti gli altri motivi necessari ragazzi se ci volete dare una mano contro questi truffatori nelle fiere del fumetto o in qualunque altro posto d'italia vi chiedo semplicemente di condividere questo video ovunque taggando amici in pagine facebook magari anche condividerlo agli organizzatori di fiere che conoscete perché questi truffatori si sconfiggono soltanto con le informazioni se tutti noi sappiamo che sono dei truffatori che chiedono soldi per metterseli in tasca e non da dare in associazioni di beneficenza come loro spacciano e fanno credere noi riusciremo veramente a sconfiggere questi truffatori perché se tutti sappiamo se tutti siamo a conoscenza di quello che sono realmente nessuno gli darà più un soldo se noi gli daremo più niente loro la smetteranno di venire alle fiere del fumetto quindi quello che vi chiedo è semplicemente condividere il video diffonderlo potete comunque benissimo scaricare questo video fare un montaggio quello che vi pare caricarlo anche nelle vostre pagine facebook nei social network su youtube ovunque potete fare qualunque cosa vi invito a parlarne e a diffondere questa notizia grazie a tutti